Ciao a tutti ragazzi e ragazze, come state? Spero che tutto vada bene. Oggi sono qua per portare un video un po' diverso dal solito sul canale, dove non vi leggerò una storia oppure vi riassumo un libro, ma vi darò consigli per iniziare a leggere, ovviamente basandomi sulla mia esperienza personale. Prima di iniziare però con il video dove tratteremo magari i luoghi più adatti, dove leggere, con che libri iniziare, come fare per uscire dal blocco del lettore e così via, mi raccomando iscrivetevi al canale, accendete la campanellina e lasciate un bel like, così saprò che i video del genere vi fanno piacere, se vi va commentate e condividete il video. Detto questo direi di iniziare. Allora, io ho iniziato a leggere, in realtà non mi ricordo l'età precisa, però ho iniziato a leggere la mia passione per la lettura, diciamo che è scaturita verso i sette anni, con un fumetto, il fumetto di Paper Inc. Infatti consiglio ai ragazzi ancora giovani, quindi magari dai sette ai dodici anni, se vogliono iniziare a leggere, di iniziare a leggere magari dai fumetti, da quei libri piccolini, dalle fiabe o comunque da libri molto semplici, pieni di immagini, così piano piano, diciamo, inoltre in questo mondo strepitoso. Diciamo che ognuno ovviamente ha i suoi tempi, quindi non è che se uno finisce un libro in un giorno, magari se te non lo fai allora non sei capace, ma semplicemente hai bisogno di più tempo per capire quel libro, e per comprenderlo e per amarlo, quindi non c'è nulla di male, perché io per molto tempo ho pensato che, diciamo, non fossi una vera lettrice se non finivo i libri immediatamente, come magari tutte le amiche che leggono, che conosco, però col tempo poi ho capito che in realtà il libro devo godermelo io, perché leggerlo in un giorno non ha assolutamente senso, quindi godetevelo. Poi ovviamente ci sono quei libri che ti risucchiano dentro e che senza accorgertene li finisci veramente in un giorno, ma perché proprio ti hanno appassionato. Infatti dovete sapere, prima di iniziare a leggere, che i libri si dividono, i libri belli e i libri, diciamo, che ci attraggono di meno, ecco. I libri che ci attraggono io di più sono quei libri che riusciamo a leggere veramente con una velocità strepitosa. Invece i libri che ci attraggono di meno, diciamo che facciamo un po' più di fatica a leggerli e non c'è nulla di male ad interromperli e poggiarli nel dimenticatoio, oppure provare a rileggerli quando siamo più maturi, quando siamo più grandi, perché veramente non c'è nulla di male a dedicarci a letture che ci piacciono, perché questa è la lettura. Certo, leggere un po' di tutto per sperimentare nuovi romanzi, così, però se una cosa non ci piace, non dobbiamo sforzarci, perché potremmo entrare nel blocco del lettore. Il blocco del lettore è quando tu, cioè, provi a leggere un libro, ma proprio non ci riesci, non hai più quella voglia di leggere, leggere ti sembra, diciamo, un sacco noioso e quindi abbandoni completamente la lettura finché non trovi un libro che ti aiuta ad uscirne. Ad esempio, io sono stata nel blocco lettore per più di un anno ed è stata una cosa veramente terrificante, perché leggere ormai fa parte di me, quindi entrare in blocco lettore, che era anche, diciamo, una delle mie prime volte che entravo, è stato un attimino scombossolante, e ad aiutarmi ad uscire dal blocco lettore è stato il libro di Erin Domi, il fabbricante di lacrime, e infatti questo libro l'ho letto più o meno, dato che andavo ancora a scuola, in una settimana, così, e mi è un sacco piaciuto, infatti la storia di Nicky Rigel, se vi va di saperla, ho già fatto un video a riguardo, mi è un sacco piaciuta e mi sono sentita proprio dentro alla storia, e quindi sono riuscita piano piano ad uscire dal blocco lettore. Poi per uscirne completamente è venuto in mio aiuto The Truth Untold di Rokia, che è veramente una storia favolosa. Un altro libro che ha chiuso completamente la mia era di blocco del lettore è It Ends, It Has, che, diciamo, ci stavo un po' ritornando, ma poi continuandolo ho superato completamente la fase del blocco lettore, del blocco del lettore, infatti ora sto leggendo un libro che si intitola Ti ricordi di me, che porterò tra non molto sul canale, e quindi per uscire dal blocco lettore basta che tu trovi quel libro che scaturisca in te quell'emozione che veramente, cioè, dici, wow, cosa mi sono persa in questi mesi, perché è normale a volte non avere più la voglia di leggere e trovarlo noioso, basta solo poi dopo riprendere in mano il proprio hobby, diciamo che è come quando non va in bicicletta per tanto tempo, se uno va in bicicletta ogni giorno, se lo ricorda, se uno non va in bicicletta per diversi mesi poi, dopo risalendoci, riassapora quella sensazione favolosa che si prova, quindi è tutto qua. Per le persone alle prime armi che ancora non sanno dove poter leggere, perché, diciamo, non riescono a trovare un posto tranquillo, io personalmente vi consiglio magari di andare in un parchetto vicino a casa, oppure se volete leggere in comunque più tranquillità e tutto, di starvene in casa, nella vostra cameretta, chiusi, oppure anche con la porta aperta, nessun problema, sul vostro letto a leggere, oppure in salotto, se avete una stanza per la lettura ancora meglio, in uno studio, comunque i luoghi, diciamo, che vi fanno sentire, cioè, a casa, ecco, perché leggere deve essere un po' così, la coperta che vi avvolge quando siete sul letto, quindi andate in posti dove voi vi sentite sicuri, dove voi vi sentite a vostro agio, magari c'è, non, molti, diciamo che vediamo molte persone, anche influencer, che quando leggono postano che sono al mare o al parchetto così, e diciamo che uno pensa, wow, se non riescono a leggere nel mare, allora anche io riuscirò, non è assolutamente così, perché ognuno si trova a suo agio nella lettura in posti diversi, ad esempio io nel mare oppure in un parchetto così non riesco proprio a leggere, mi blocco, invece magari se, tipo, leggo in cameretta o sull'autobus, leggo veramente in una facilità, perché riesco ad entrare nel mondo stando da sola. Questo è tutto, ragazzi, prossimamente in un video vi porterò libri che fanno uscire dal blocco lettore, e qua ve ne ho detto solo due o tre, vi porterò libri che potete, fumetti, anche libri piccoli con i quali io inizio a leggere, che potrebbero essere d'aiuto anche a voi, e quindi se non volete perderveli, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina e lasciate un bel like, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao ragazzi, buona fortuna con la vostra lettura.